Gentili telespettatori, buona giornata. E così Angelo Bonelli, leader di Verdi, Sinistra, eccetera, eccetera, si presenta in procura e fa un altro esposto. Fa un esposto questa volta sul ministro San Giuliano per peculato. Il peculato è un termine per definire quelli che si fregano i soldi pubblici, detto proprio terra a terra. Infatti abbiamo per esempio dei condannati in Parlamento per peculato, c'è una che si era fatta rimborsare Swarovski, borse, aveva portato gli amici a pranzo, cena, finti corsi di computer, c'è una che è stata condannata in via definitiva e ogni tanto sui giornali è ancora pontifica come se nulla fosse. Ecco, quando tu ti fai rimborsare soldi che non dovresti farti rimborsare, non si dice che hai rubato allo Stato, ma si dice in una maniera più gentile, peculato. Cosa hai detto? No, peculato non è una parolaccia, ma significa appunto quelli che fregano lo Stato, si fanno dare i soldi dallo Stato. Più gentile è peculato. Cioè hai rubato? No, peculato. Eh, non hai rubato? Ma no, è peculato. Allora, quindi Bonelli va a fare un esposto in magistratura su San Giuliano con l'ipotesi di peculato. Per il caso San Giuliano boccia, nel senso che secondo Bonelli avrebbe la boccia utilizzato soldi del Ministero, quindi rimborsi del Ministero per i suoi viaggi con il Ministro. Allora, da quello che ho capito io, la boccia viaggiava sulla macchina del Ministro e il Ministro dice ho pagato tutto io con la mia carta di credito. Poi la magistratura dovrà eventualmente verificare che tutte le spese di questa boccia siano state fatte dalla carta di credito privata del Ministro Boccia. Appriamo una parentesi. Io ve l'ho già raccontato, ho lavorato 15 anni in azienda, la maggior parte dei quali come dirigente, e avevo a che fare con i rimborsi dei dipendenti. Io avevo tutti i rappresentanti, alcuni erano dipendenti, alcuni erano con partita IVA, e quindi quelli dipendenti si facevano rimborsare pranzi, cene, caffè, alberghi. Spesso erano spese di rappresentanza, cioè loro andavano a prendersi il caffè col cliente, portavano a pranzo il cliente, i clienti, avevano anche un budget per fare i regali di Natale ai clienti, eccetera, eccetera. E quindi ne ho viste di tutti i colori. Ho visto rappresentanti che tentavano di farsi rimborsare tre pranzi nello stesso giorno. Ho visto uno che tentava di farsi rimborsare anche i pranzi a Natale, Capodanno, Domenica, Sabato. C'era un altro che tre volte al mese rompeva l'antenna del cellulare. Vi ricordate che c'erano in Motorola con l'antenna? Ecco, insomma, quando ci sono di mezzo i rimborsi spesa i tentativi di fregare le aziende, farsi dare soldi in più attraverso i rimborsi spesa è una cosa molto diffusa. Allora, io vi dico, quando un rappresentante va in albergo e da solo prende una camera, no? Quando un rappresentante, un dipendente si vuole portare qualcuno in camera, o lo fa di nascosto facendo entrare la persona dal garage, oppure si mette d'accordo con quello dell'albergo e dice senti, guarda che io non posso, non mi scrivere due persone nella ricevuta, mi metti camera, punto e basta. La camera costa 200 euro, magari se ero da solo costava 150, 180, tu metti una persona senza scrivere che sono due e ti metti d'accordo con l'hotel. Questo è per fare entrare una persona in hotel senza che poi nel rimborso spese risulti. Oppure vai al bar e prendi due cappucce e due brioche, per te è un'altra persona che non avrebbe diritto al rimborso e poi in azienda dici spesa di rappresentanza, un cliente, ho offerto la colazione a un cliente. Oppure andate in due, uno prende un cappuccio, l'altro prende una brioche, oppure uno prende un succo di frutta e l'altro un cappuccino, tu dici ero solo io, a me io faccio colazione così e invece eravate in due. Quando si va al ristorante è la stessa cosa, quando tu vai al ristorante e magari paghi per te e altri cinque clienti e invece siete in sei perché ti sei portato qualcuno tu, allora quando c'è da fare il conto gli dice quello del ristorante, senti scrivi cinque persone, il totale lo dividi per cinque e non per sei e così tu puoi portarti una persona a pranzo, a cena, a colazione, in albergo e la infili dentro nei rimborsi senza che l'azienda se ne accorga. Quindi evidentemente tra spese di rappresentanza, pranzi, cene pagate, colazioni pagate, benzina pagata, se ti porti appresso una persona non è difficile far sì che questa persona usufruisca di quello che usufruisci tu senza risultare nei rimborsi e nelle ricevute, è molto semplice. No, come vi ho spiegato, io ne ho viste di tutti i colori, ho anche licenziato, mi ricordo, il rappresentante che avevo in Puglia, c'erano due rappresentanti, nella parte sud della Puglia c'era questo signore qua che ne combinava davvero, davvero di tutti i colori, si fregava tanti di quei soldi, proprio con i rimborsi spesa, proprio con i rimborsi spesa. Quindi i metodi per non far risultare una persona che ti porti dietro ci sono, ci sono. Arrivederci a tutti e grazie, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Ricordatevi che poi c'è anche Teleitalia Seconda Rete dove poi trovate video come questi che poi sono condivisi in Facebook. Arrivederci a tutti e grazie.